Romero Lukaku, dopo aver fatto tantissimi gol già l'anno scorso, ha ricominciato con un grande ritmo anche in questa stagione e è stato complice, se non il principale motivo, della vittoria dell'Inter contro il Borussia Mönchengladbach. Ha trovato un'importante doppietta e non solo in campo, ma anche fuori dal campo, si conferma sempre più leader di questa Inter. Nella giornata odierna i quotidiani sportivi sono usciti in edicola dedicando tantissimi articoli a Romero Lukaku. Sono andati diretti, facendo discorsi molto chiari, dicendo che Lukaku non solo è fondamentale in campo nell'Inter perché segna tantissimi gol, ma è diventato anche sempre più un leader. Quello che mi sento di dire è che siamo arrivati, forse un pochino tardi, a capire a lungo, anzi a capire a fondo, volevo dire, la dimensione di Romero Lukaku, non solo come leader appunto, ma anche banalmente come giocatore. Perché solo un annetto abbondante fa ci si chiedeva se Lukaku valeva quei famosi 83, che poi non sono stati 83 milioni che l'Inter ha speso per lui, e adesso direi che le risposte Big Rom ce le ha date. Io anzitutto, ragazzi, questo video lo stiamo registrando in diretta e chiedo a tutti i nostri ascoltatori in diretta di rispondermi, e dopo metterò in evidenza i vostri commenti, a questa domanda che peraltro si sono fatti in tanti, proprio nella giornata odierna. Romero Lukaku è il numero 9 attualmente più forte del mondo? Sono stati spesi tanti paragoni con Holland, con Lewandowski, con Benzema, con Cristiano Ronaldo, con tantissimi calciatori, tra i più forti chiaramente d'Europa, e secondo me il tema si pone, nel senso che rispetto all'anno scorso, oggi abbiamo una serie di prestazioni e di numeri che ci fanno legittimamente poter pensare che Lukaku sia il numero 9 più forte del mondo. Prima di mettere in evidenza i vostri commenti, ragazzi, e appunto le vostre considerazioni, vi mostro due dati che sono maturati dopo la vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, e quindi dopo la doppietta di Lukaku in Germania. Il primo è quello che ora vi mostro in sovrimpressione. Allora, numeri record per Lukaku, superato Caespo e Toh nel mirino. Per media gol è il migliore di sempre. Quindi Lukaku, andando poi nel dettaglio, ha realizzato 45 gol finora con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni ed è a soli 8 gol in meno rispetto a Samuel Eto'o. La statistica molto curiosa però è che ha già raggiunto Hernán Crespo come numero di gol nell'Inter, con la differenza che Crespo ci ha messo 116 partite per raggiungere questi gol. Lukaku è a quota 63. Quindi praticamente Lukaku ha messo poco più della metà delle partite con cui Crespo ha raggiunto il suo stesso numero di gol. Inoltre, per quanto riguarda la media realizzativa, è a una media di 0,71 gol a partita che, come scrive il nostro affaire di Girolamo in questo articolo, se si considera la media gol a partire dagli anni 20, quindi gli ultimi 100 anni di storia, Lukaku ha il miglior rapporto tra presenze e reti della storia interista, superando anche dei giganti del passato come Niers, Meazza e Vieri. E questa è la prima statistica piuttosto rilevante della stagione di Romelu Lukaku. La seconda, che ora vi mando sempre in sovrimpressione, riguarda temi un pochino più di attualità ed è quella che leggete ora. Romelu Lukaku, più di ogni altro, ha segnato in Europa tra Champions ed Europa League nell'anno solare 2020. Ha messo insieme 11 gol, facendo meglio di Ronaldo, che ne ha fatti 4, e anche di Holland e di Lewandowski, che sono a quota 8. Quindi, prendendo l'anno solare gennaio-dicembre 2020, che tra l'altro non è ancora finito perché c'è ancora appunto un mese, Lukaku è il calciatore che in Europa ha segnato il maggior numero di gol in Champions League. E tra l'altro è andato nel corso della scorsa stagione, della fase finale dell'Europa League dell'anno scorso, è andato a tanto così da raggiungere il record di Cristiano Ronaldo di reti segnate in gare consecutive, e anche a tanto così dal record di gol di Ronaldo alla prima stagione con la maglia dell'Inter, che purtroppo, poi qualcuno dirà, anche per fortuna, magari vista le dimensioni che ha avuto Ronaldo, ma che comunque è andato davvero vicino a raggiungere e a superare. Quindi, adesso metto in evidenza qualche vostro commento e sono curioso di capire se, appunto, secondo i nostri ascoltatori che sono in diretta, Lukaku è l'attaccante più forte del mondo in questo momento. Allora, Giordano scrive nella top 3, quindi lo mette nel gota, diciamo, degli attaccanti migliori. Tra i più forti al mondo, scrive Michael, sicuramente. Lukaku è un giocatore completo, più di Lautaro, dice Aldo. Direi che è abbastanza corretto. Cioè, in questo momento, la dimensione più grande fra i due è quella di Lukaku, assolutamente. Fortunato dice, secondo me, sì, assolutamente. Francesco, invece, dice, secondo me, Lewandowski e Hollande sono davanti a tutti. Opinione assolutamente rispettabile. Non sono neanche troppo distante da questa idea, caro Francesco. Perché comunque Lewandowski, soprattutto, visto che sono più anni che domina in Europa, ma anche Hollande sta facendo vedere cose veramente spaventose. Seba 94Q dice, assolutamente sì. Lukaku è molto forte, col numero 9, dice Militozzolo, grandissimo. Paradise Soccer dice, sicuramente, Leiva e Hollande se la giocano con Romelu. Forse il primo no, ma top 3, 5 al mondo, sicuramente sì. Esatto, quindi diciamo che si può stare a sindacare sul posto nel podio, ma all'interno del podio io credo che ci possa stare tranquillamente. Anche Antonio ci dice, io Lukaku lo metto nei primi 5 migliori del mondo, ma non al primo posto, assolutamente. E poi ho visto un commento interessante di Grinta, se solo migliorasse il suo first touch diventerebbe un mostro sacro, quindi il primo tocco. E diciamo che si può lavorarci. D'altronde Lukaku, ragazzi, ha 26 anni, se non sbaglio. Quindi 26 o 27. Quindi ha ancora ampi margini di miglioramento. Quindi direi che ce lo potremo godere, tra l'altro, ancora per tanti anni. Quindi chiudo, appunto, sempre con Francesco, che ci ribadisce, anche io Lukaku lo metto tra i primi 5. Questa, ragazzi, era quindi l'opinione dei nostri amici in diretta. Io, per sintetizzare, che non mi ricordo se sono stato chiaro e se l'ho detto, sono un po' più sulla linea di Francesco. Io metto Lewandowski ancora un passetto avanti, più che altro per la sua carriera che ha messo insieme fin qui. E, visto che comunque sia domina in Europa da qualche annetto in più rispetto a Lukaku, ma sono assolutamente convinto che Lukaku, nel giro di pochi mesi, possa scavalcare anche il bomber polacco. Vi chiedo quindi nei commenti a questo punto di scrivermi cosa ne pensate voi che state vedendo questo video indifferita. Fatemi sapere, appunto, qui sotto se, secondo voi, Lukaku è il miglior numero 9 del mondo, o se ha qualcuno davanti a sé, e nel caso, ditemi anche chi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ragazzi, siamo in diretta ogni giorno alle ore 19 e siamo in diretta anche nel corso delle partite dell'Inter per seguire tutti insieme, anche con il nostro Lorenzo Polimanti e seguite il cuore di Passione Inter su tutti i nostri profili social.